Siamo qui con Giacomo Giagnotti, il volto italiano di Grace Anatomy e ti volevo chiedere prima di tutto come è stato entrare in questa grande famiglia di Grace Anatomy? Bello, tutti gli attori sono stati molto carini, hanno visto un sacco di attori che hanno venuto poi sono andati, allora capiscono che è un programma che vede tanto di scambio tra attori e allora dall'inizio sempre molto caldi e gentili con me. Sei un uomo in un cast di grandi donne, ecco, com'è lavorare con tutte queste bravissime attrici vicino a te, delle donne molto forti? Bellissimo, mi tengono sempre, mi forzano a sempre portare il mio meglio perché sono veramente di un talento estremo. Qual è la difficoltà maggiore nel girare un episodio di Grace Anatomy, cioè per voi? La velocità, sai, leggiamo il testo insieme, il giorno dopo iniziamo a girarlo, stai ancora imparando tutto il testo e normalmente ti danno nuove pagine quel giorno, allora cambia tutto molto velocemente, lo giriamo molto velocemente c'è una ripresa, forse due, se tutto va bene, allora è molto rapido, però è un po' il stile che adesso ormai mi sono abituato però all'inizio, sai, una ripresa, ok, siamo finiti di tutto, solo quella? Cioè, mi ho sentito un po' in ansia ma poi, insomma, ti abitui a lavorare a quel passo molto veloce. Com'è stato quando hai scoperto di avere una sorella in Grace Anatomy che è arrivata tua sorella? Bellissimo, bellissimo. Avere un'altra persona italiana sul set in cui potevamo parlare italiano, discutere, insomma, cose nell'Italia è stato molto bello, molto bello. E cosa dobbiamo aspettarci per il futuro del tuo personaggio? Ti aspetti qualcosa anche a livello sentimentale? Io non so, non ho avuto nessuna fortuna nell'amore, allora forse speriamo che c'ha qualche fortuna lì e che si leva questa depressione fortissima che ha addosso adesso. Dai, un pochino si è spenta la tensione nel finale della scorsa stagione, ecco, anche con Ellen. Sì, non sappiamo se sarà un rapporto, un'amicizia, una bella storia da raccontare a degli amici, per adesso io purtroppo sono un attore e non so niente della prossima settimana. Lo scopriremo prossimamente, allora, buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.